Di nuovo benvenuti a Un Anno in 4 Minuti, siamo oggi con Leonardo Dentoni, il Presidente del gruppo dei volontari di protezione civile in ambito provinciale, è stato anche questo 2016 un anno ricco di interventi da parte vostra, un bilancio. Interventi sono stati tanti, tant'è che parlavamo con alcuni amici che ormai facciamo fatica a svolgere le attività destrative che mettiamo in calendario, proprio perché le attività d'emergenza iniziano ad essere nell'acqua dell'anno tante ultimamente, quindi è stato un anno abbastanza intenso sicuramente. Dentoni se le dico purtroppo la parola terremoti? Noi è dal 24 di agosto che fondamentalmente non ci fermiamo, oggi sono piacentini in questo momento, io sono nato stanotte, che mi è andato il cambio in altri piacentini, in varie zone del terremoto, quindi non in unica logica, ma in più località. Si dovrebbe risolvere probabilmente entro la fine del mese l'attività emergenziale, però sicuramente è stato abbastanza impegnativo. C'è sempre però un presidio da parte di piacentini in questi territori? Sicuramente sì, a vario titolo, in vari ambiti, in località magari diverse in base al tipo di necessità, ma sicuramente Piacenza è sempre stata parecchio presente. Ecco, voi intervenite anche nei casi di dissesto idrogeologico, l'alluvione quella principale, lo ricordiamo, del settembre 2015, ma voi vi siete anche occupati poi degli strascichi e anche in questo 2016 che si è chiuso siete intervenuti in vari punti, nei vari torrenti, abbiamo lavorato di nuovo in collaborazione con il Comune di Piacenza su Roncaglia, ma abbiamo avuto problemi con il Cheiro e con il Riglio, ormai sta diventando una quotidianità le problematiche dei torrenti. Una volta a livello idrogeologico era il Po, oggi forse sta diventando un'attività secondaria e sicuramente gli affluenti hanno un impatto maggiore a livello di emergenze. Sul Po abbiamo lavorato recentemente con la chiusura preventiva dei varchi arginali qui a Piacenza, per fortuna poi è rimasto tutto sotto un buon livello, però sicuramente la parte da Leone in questo periodo sono le parti montane, collinari del Neosito Oriente. Tra le attività di cui vi occupate è anche quella della ricerca dispersi, tra questi anche quella del corpo di uno delle presunte vittime dell'alluvione del settembre scorso. Abbiamo, come si era anche in qualche modo promesso, tentato di nuovo a ricercare, a fare una battuta di ricerche appena possibile inizio anno con di nuovo nel mure del corpo che non si è tutto ancora trovato e purtroppo con esito negativo, sapevamo che era difficile ma si è voluto comunque tentare. Le ricerche dispersi, soprattutto all'inizio dell'anno, sono state tante. Le facciamo spesso, è un aiuto che diamo chiaramente ai Vigili del Fuoco, al forestale, alle forze dell'ordine, siamo sempre a disposizione. Le chiedo un augurio a questo punto anche ai suoi uomini per il 2017, ricordando che anche cercate una sede. L'augurio è quello di lavorare per una nuova sede, il Comune di Piacenza so che ci sta dando una mano notevole in tal senso, mi auguro finalmente di avere qualcosa di concreto. E noi le facciamo un in bocca al lupo per questo. Grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie.